Domenica 27 sarà solo l'anticamera di una prima fase di vaccinazioni del siero dell'azienda Pfizer che giungerà alle nostre latitudini direttamente dall'Istituto Spallanzani di Roma. Le prime dosi, esattamente 280 a scopo simbolico, saranno somministrate presso l'ospedale Materdomini di Catanzaro. La regione si è dovuta far carico nel dare comunicazione del numero degli operatori incaricati alla somministrazione nonché le identità degli stessi in modo tale da attuare la formazione. In primis, destinatari del siero, medici e personale sanitario. Nel V-Day di domenica 27 dicembre, il personale addetto sarà operativo dalle 7 alle 21. La prassi prevede un check-in, la somministrazione, l'attesa, la consegna del certificato e conferma dell'appuntamento della seconda fase. Poi tutti i dati al termine della giornata saranno inviati al commissario. Seguirà una banca dati quindi per comprendere gli effetti e le reazioni dopo le immunizzazioni dal vaccino. Per il personale medico e sanitario di strutture private bisognerà attendere la prima decada di gennaio. Sul fronte rientri di questi giorni invece il presidente facente funzioni della Calabria Nino Spirli ha fatto sapere che saranno messe a disposizione dei fuorisede 50.000 test rapidi gratuiti effettuabili presso le 5 postazioni delle città capoluogo. Test gratuiti quindi per coloro i quali si saranno registrati nella piattaforma regionale e si presenteranno alle postazioni dichiarando il loro rientro da fuori.